Allora cacchio e controcacchio ci troviamo qui in questo bellissimo hotel come si chiama Palazzo Mascani ebbene insieme in compagnia di Giulio, Daniele, Lorenzo, Lorenzo sempre magnifico insomma mi sono venuti a prendere nella fattispecie venuto a prendermi Giulio alla stazione e ha visto che c'era dove si è fermato il treno sul binario c'era un asino un asino morto poverino un asino morto e se vede che cosa ci fa un asino morto sul binario a Livorno terraria pih 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 pih